Ecco il treno, ecco il treno. Sottopasso, piano, porta derivanti, veri nodi, nodi. Oggi andiamo, ecco tra poco io salvo. Quello, che non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Oggi andiamo a Lodi, visitiamo poi la città ma proseguiamo il cammino. Da Lodi si può andare in tre posti. Allora, ve lo dico subito, a Cremona o si può andare anche a Piacenza, che fa parte sempre dell'abbonamento ovunque Lombardia. Oggi abbiamo cambiato tragitto, abbiamo dimenticato, ho lasciato parte un po' la Valtellina, per proseguire una pianura padana, si può dire, pianeggiante, dove non si vedono le montagne. Ma è bello ugualmente ad anche arrivare a Piacenza, dove c'è la piazza nuovo stupenda di questa bella cittadina, che è al confine tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Via, pronti, siamo in treno. Ciao a tutti, ciao.